Ciao a tutti, come vive l'amore il seno dei pesci? Prima di affrontare questo tema, però, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, come vive l'amore il seno dei pesci? L'idea dell'amore del seno dei pesci deriva dal romanticismo, dai film romantici visti, dai libri romantici letti con la stessa intensa sensibilità e dolcezza che il pesci mette a disposizione e spera di essere ricambiato. Diciamo, l'amore è un qualcosa di, per il seno dei pesci, di romantico, un qualcosa simile all'arte, alla creatività. Aiuta a vivere le persone in modo armonioso e quindi si aspetta di essere contraccambiato in questa sua infinita gentilezza che comunque, le gentilezze che comunque il pesci manifesta verso il proprio partner. Quindi amore è concepito come romanticismo. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!